Purtroppo dobbiamo renderci conto che Bassano sta decadendo da questo punto di vista. Basta fare un giro per Bassano, il centro e non solo il centro di Bassano, per vedere la realtà. Abbiamo la zona del Porfido, che alcuni sempiettini si stanno togliendo, ci sono scritte dappertutto, soprattutto ultimamente le erbaccele. Basta fare quattro passi per la zona del centro per comprendere le parole di Mariano Scotton. Queste, ad esempio, sono le storiche mura cittadine di Viale delle Fosse. Nel tratto più a sud sono completamente ricoperte di vegetazione, tanto da scomparire quasi alla vista. Pochi metri più in là, in piazzale Trento, ecco questo datato Vespasiano. Immagini che per nulla si addicono a una città come Bassano, che pretende di essere definita turistica. Per questo Mariano Scotton lancia un appello agli amministratori. Io invito gli amministratori a fare un giretto per il centro e anche per i quartieri per rendersi conto, in questo momento, della realtà, un po' di degrado della nostra città. Tante parole, poca concretezza. Sì, secondo me manca proprio una cura particolare su quello che è la manutenzione.